benvenuti a un nuovo appuntamento di aspettando genova l'onda covid capire per reagire il ciclo di approfondimenti sulla pandemia e l'emergenza sanitaria realizzato da il bolive in collaborazione con il festival della scienza di genova che si svolgerà ricordiamo dal 22 ottobre al primo di novembre in queste settimane che ci separano dall'inizio del festival abbiamo avuto diversi ospiti con cui abbiamo affrontato diversi aspetti della convivenza con il virus con l'ospite di oggi proveremo a capire come sono fatti come funzionano e a che cosa servono i modelli epidemiologici di cui abbiamo sentito parlare in questi ultimi mesi quindi modelli previsionali che raccolgono i dati disponibili e propongono scenari possibili sull'andamento dell'epidemia ne parliamo con alessia melegaro direttrice del covid crisis lab dell'università bocconi di milano e professore associato del dipartimento di scienze politiche e sociali della bocconi buongiorno professoressa melegaro si occupa di questi modelli quantitativi per l'analisi delle misure di prevenzione del sistema sanitario quindi modelli matematici che studiano sia i processi epidemici sia le strategie per contenerli ha lavorato su malattie come morbillo dengue hiv influenza e ora anche sul coronavirus professoressa allora vorrei partire proprio dalle basi che cosa sono questi modelli di cui lei si occupa come si costruisce un modello epidemiologico e a che cosa deve servire i modelli matematici si costruiscono prendendo considerando prima di tutto l'infezione e le caratteristiche dell'infezione dopodiché si suddivide la popolazione in determinati stati vengono chiamati proprio gli stati epidemiologici che sono quelli rilevanti ad esempio per una malattia un'infezione come il coronavirus sono necessari di compartimenti che riguardano i suscettibili gli infetti e rimossi questo modello standard epidemiologico che prevede quindi il diciamo la caratterizzazione della popolazione sulla base di questi di questi elementi e poi anche l'analisi della diffusione tenendo in conto il fatto che il rischio di infezione è un elemento endogeno al sistema per cui l'infezione e il numero di infetti presenti nella popolazione determina il rischio di infezione e questo numero di infetti cambiando nel tempo fa cambiare anche il rischio di infezione e lo stesso vale per le politiche sanitarie quindi se viene introdotto una politica di vaccinazione o di screening o di lockdown questo avrà un impatto sul suo rischio di infezione quindi di conseguenza il modello terrà conto sono delle equazioni matematiche se vogliamo che descrivono questi andamenti e possono essere di diverso tipo ci sono i modelli classici compartimentali che sono questi che ho appena descritto oppure ci sono anche i modelli ad agenti dove vengono seguite gli individui singolarmente e tanti singoli individui formano una popolazione sintetica all'interno della quale poi processo di diffusione avrà luogo mi sembra che un modello dipenda molto dal tipo e dal numero di parametri che vengono scelti allora una domanda velocissima prima di chiederle poi qualcosa sui parametri predice di più un modello con tanti parametri o con pochi parametri la regola è che meno meno parametri abbiamo meglio è nel senso se riusciamo a rappresentare un processo effettivo con un modello semplice questa è la strada non vogliamo aggiungere complessità laddove non è necessario quindi per ogni parametro tra l'altro che abbiamo nel modello dobbiamo pensare che ci servono dei dati per calibrarlo e quindi un modello con tanti parametri avrà bisogno di tanti dati mentre un modello con pochi parametri avrà bisogno di meno dati per essere un modello robusto e valido ecco allora veniamo proprio a ai parametri da inserire in un modello e uno particolarmente importante è quello che riguarda i contatti sociali e allora io le chiedo da dove si prendono i dati dei contatti sociali e come vengono integrati in un modello previsionale per un'epidemia si dati i contatti sociali sono l'elemento chiave nel modelli epidemiologici e fino a una cinque otto anni fa molto spesso venivano fatte delle assunzioni teoriche perché i dati sui contatti sociali non erano disponibili e oggi abbiamo diversi data set su diverse parti del mondo italia inclusa che ci dicono proprio l'interazione questo è il dato sui contatti sociali l'interazione tra gli individui quindi che tipo di interazioni ho con che frequenza che in che luoghi avvengono queste interazioni noi ad esempio abbiamo fatto delle diverse diversi studi dove siamo andati a chiedere al alle persone ai partecipanti di compilare una specie di diario giornaliero nel quale elencavano tutti i contatti che avevano avuto la durata del contatto il luogo in cui questo era avvenuto e poi attraverso l'analisi di queste di questi dati si costruiscono delle matrici vengono chiamate le matrici di mixing che danno appunto questo questo interazione tra le diverse classi in particolare matrici di mixing che vengono utilizzate adesso per il corona sono matrici per età e quindi ci danno fasce di età diverse che tipo di relazione hanno con altre con altri gruppi e sapendo che appunto il coronavirus è un'infezione che colpisce in modo severo particolarmente diciamo gli anziani adesso in quest'ultimo periodo c'è un po un' evoluzione però l'infezione è molto molto più seria nelle persone più più anziane il sapere come queste persone interagiscano con altri gruppi nella popolazione è un elemento chiave per riuscire a riprodurre in maniera fedele il diffondersi dell'infezione dell'epidemia. Oltre alle interazioni tra persone quindi i contatti sociali abbiamo anche visto che un altro parametro importante è capire come le persone si spostano quindi la cosiddetta mobilità e abbiamo visto anche che abbiamo sfruttato le tecnologie a nostra disposizione per comprendere la mobilità delle persone e quindi ricavare dati da questo penso ad esempio alle celle telefoniche che hanno fornito i dati sulla mobilità delle persone addirittura anche dati provenienti dal web dai social network sono stati utilizzati in alcuni studi e due domande e queste nuove tecnologie quanto hanno cambiato la nostra disponibilità di dati e come si come si integrano questi dati della sulla mobilità nei modelli previsionali si questi oggi oggi giorno abbiamo a disposizione una quantità di dati incredibile e ancora di più in quest'ultimo anno durante durante il covid emergenza covid c'è stata una raccolta di dati sullo spostamento sulla sulla mobilità appunto molti di questi data set sono vanno proprio ad individuare l'aggancio alle celle telefoniche quindi riescono bene a riprodurre gli spostamenti delle persone a vedere l'impatto del lockdown eccetera e quindi danno un'informazione molto importante perché di nuovo e introducono un elemento di realismo all'interno del del modello teorico quindi il fatto che aree geografiche che sono molto connesse e che il dato ci dice che sono molto connesse chiaramente avranno una probabilità di diffusione di infezione dall'una dall'altra più alta rispetto delle aree che magari invece sono centrali in una regione che però risultano poco connesse rispetto ad altre unità quindi il dato sulla mobilità ci permette di affinare ancora di più questo rischio di infezione e invece che agganciarlo a delle costrutti a delle formule teoriche agganciarlo ad un'informazione reale che viene presa proprio dalla nostra vita tutti i giorni. Senta professoressa una volta che viene fatta una nuova scoperta come viene integrata questa nuova informazione nei modelli penso ad esempio al ruolo che giocano gli asintomatici nella diffusione della malattia all'inizio questo dato non era noto poi a poco a poco si è capito che gli asintomatici molto probabilmente giocano un ruolo anche considerevole come viene trattata una nuova informazione di questo tipo all'interno di un modello viene integrata come cosa succede? Succede che il modello viene magari anche esteso in modo da includere questa questa nuova informazione a volte si aggiungono delle classi per cui se gli infetti asintomatici e quelli sintomatici hanno delle probabilità diverse di trasmettere il virus perché magari hanno anche cariche virali diverse si dovrà stratificare la popolazione tenendo in conto anche di questo fatto quindi si aggiungerà una classe ad esempio al modello standard che avevamo di cui avevamo parlato prima. Altra possibilità è quella di avere maggiori informazioni riguardo ad un processo che era già costruito all'interno del modello e quindi il dato nuovo che arriva può andare a parametrizzare meglio un aspetto specifico del modello quindi può essere aggiornato il modello può essere esteso ma può essere anche aggiornato a dati che sono più pertinenti ad esempio diversi modelli erano stati sviluppati per la realtà covid in Cina nel momento in cui covid è partito in Lombardia e si sono state fatte diverse analisi di studio del dato e di sviluppo del modello epidemiologico che hanno cercato di inserire l'elemento italiano, il dato italiano all'interno del modello per rendere le proiezioni adatte al contesto italiano perché avere un modello epidemiologico che poi utilizza delle informazioni che arrivano da un altro paese è sempre un po' diciamo ai limiti ecco della confusione. Possiamo dire che questi modelli sul nuovo coronavirus sono stati sviluppati un po' in tempi record cioè mentre la pandemia, mentre l'epidemia si stava diffondendo. Come una metafora si può dire che gli scienziati è come se stessero tentando di costruire un aereo mentre stavano su quello aereo, mentre lo stavano pilotando. Di solito per le altre malattie infettive di cui lei si è occupata esistono già dei modelli previsionali validati e arriveremo ad uno o pochi soli modelli validati anche per la diffusione del coronavirus oppure manterremo modelli diversi a seconda di quello che vogliamo andare a cercare in ciasco modello. Ci sono delle strutture modellistiche che sono abbastanza standard e quindi nell'ambito epidemiologico e che sono agganciate a caratteristiche dell'infezione come dicevo prima quindi è l'infezione che detta un po' la struttura modellistica. Poi non è possibile creare un modello che sia validato ed applicabile in tutti i contesti perché in ogni contesto avremo dei parametri, anche parametri demografici e sociali che sono diversi rispetto ad altri contesti e quindi bisognerà calare diciamo il framework del modello nel paese o nella zona che si sta considerando parametrizzandolo il più possibile con i dati locali. Quindi non penso che ci sia la possibilità di andare verso un unico modello validato ed è importante anche tra l'altro penso avere sempre la possibilità di confrontare le previsioni quindi il fatto di avere diversi modelli che cercano comunque di rispondere alla stessa domanda e dà al decisore politico anche più robustezza rispetto alle proiezioni che vengono fatte quindi non mi affiderei in un contesto così pandemico insomma avere delle conferme anche rispetto a modelli diversi penso che sia molto importante. Quindi insomma la forza sta anche nella pluralità. Venendo proprio a un tema che lei ha appena menzionato cioè il confronto con il decisore politico vorrei chiederle che ruolo hanno svolto i modelli predittivi in questo confronto tra scienza e politica. Noi abbiamo sentito spesso insomma che il comitato tecnico scientifico si è riunito con il governo, con i governi insomma non solo in Italia ma in tutto il mondo in cui sono state presentate delle previsioni, degli scenari possibili e naturalmente lì venivano presentati i risultati elaborati da questi modelli previsionali. Allora secondo lei questi modelli appunto come si collocano in questo dialogo tra scienza e politica? Che ruolo svolgono? La parte modellistica è un elemento tra tanti, c'è l'elemento di aspetti immunologici, aspetti puramente epidemiologici, aspetti legati magari nel momento in cui guardiamo le strategie di intervento, l'efficacia, la sicurezza eccetera e poi c'è la parte modellistica che permette se vogliamo di includere aspetti diversi che provengono anche da discipline diverse e fare una proiezione o comunque cercare di capire anche delle quantità epidemiologiche che non sono date, che non sono conosciute, cercare di capire quelle quantità e stimarle. Quindi la modellistica epidemiologica offre diciamo uno strumento in più ai policymaker per prendere delle decisioni che poi spetta ai policymaker prendere, nel senso il modellista fornisce lo strumento e fornisce gli scenari e fornisce anche le assunzioni che stanno dentro ai vari modelli e poi sarà il policymaker, il governo che deciderà quale strategia è meglio adottata. fare. È chiaro che in un momento di emergenza l'importanza di proiezioni, simulazioni è ancora più forte perché non c'è il tempo per andare ad effettuare studi clinici, per vedere come funzionerebbe in un modo piuttosto che in quell'altro e quindi c'è bisogno di essere estremamente rapidi nella valutazione della situazione. I modelli nel contesto Covid in particolare io penso che abbiano dato un contributo importante perché nel momento in cui abbiamo iniziato a vedere come si stava diffondendo l'infezione, anche parlando del contesto italiano, siamo riusciti attraverso un'analisi dei dati, analisi statistiche dei dati a stimare le quantità epidemiologiche fondamentali e a quel punto il modello è stato parametrizzato e è stato in grado di fornire le previsioni, questo in tempi super rapidi. L'impatto delle previsioni generate dai modelli sui policymaker a mio avviso è stato molto alto perché di fatto un conto è seguire l'andamento giorno per giorno e vedere i dati, il numero dei casi eccetera, ma avere una previsione magari a quattro settimane e capire che la situazione diventerebbe così grave e così difficile da sostenere dal sistema sanitario, mette in moto delle azioni e delle decisioni che magari avrebbero impiegato molto più tempo ad arrivare sul tavolo e quindi penso che abbiano dato un contributo molto importante. E secondo lei proprio questo confronto tra scienziati o comunque presentazione di risultati scientifici e decisori politici, questo confronto in qualche modo ci ha insegnato qualcosa su come questo dialogo potrebbe e dovrebbe avvenire nel futuro? Ma io penso che una cosa che Covid ha lasciato è il fatto che i canali di comunicazione sono importantissimi, quindi già il fatto che si siano creati dei canali laddove prima non c'erano di comunicazione tra comunità scientifica, comunità nello specifico epidemiologica, modellistica e politiche pubbliche, salute eccetera, si sono aperti dei canali, si sono creati dei ponti che prima del Covid non c'erano e questo permette sia nell'immediato ma anche in un futuro di andare a cercare quelle competenze che sono le competenze necessarie in un momento di emergenza. Quindi io non mi sento di commentare se potevamo fare meglio, potevamo fare di più nel passato, io penso che adesso ci sia la possibilità di avere un dialogo e di andare a cercare i profili che sono importanti in momenti di emergenza di questo tipo. Quindi se dovesse succedere che un domani dovesse verificarsi un'altra pandemia, speriamo di no, io penso che la comunicazione avrebbe in modo molto più facile e quindi anche la capacità di prendere e adottare delle misure in tempi rapidi sarebbe molto più veloce, anche molto più rapidi. Veniamo adesso dunque alla comunicazione dei risultati, dei dati scientifici, non con i decisori politici ma con il grande pubblico. Abbiamo visto che in questi mesi siamo stati un po' insomma sovraesposti a informazioni scientifiche come forse mai era accaduto in questo paese, addirittura in primavera. In primavera avevamo l'appuntamento fisso con la protezione civile, i dati del giorno, quindi numeri, grafici, analisi di scenari possibili e informazioni provenienti proprio anche dai modelli. Secondo lei al grande pubblico che messaggio è passato e che cosa abbiamo imparato da questa sovraesposizione a informazioni scientifiche? Io penso che ci sia stata una sovraesposizione e penso che si siano imparate delle cose cammin facendo, quindi l'importanza di essere trasparenti nei confronti del pubblico penso che sia un elemento chiave, quindi sicuramente ritengo che sia fondamentale informare i cittadini di quello che sta succedendo e di quello che anche delle analisi che vengono fatte, che vengono utilizzate per informare le politiche, le decisioni, di chiudere. Quindi se invece che arrivare la decisione dall'alto e dire chiudiamo tutto perché pensiamo sia giusto così, riuscire ad argomentare questa cosa anche sulla base e menzionando l'apporto scientifico, penso che dia fiducia anche ai cittadini e che crei un legame più forte anche in termini di adesione alle politiche che poi vengono messe in atto. Chiaramente c'è sempre un trade off per cui il passare informazioni giornaliere sull'andamento del numero dei casi eccetera, alla fine dopo un po' di settimane eravamo tutti come un po' asfissiati da questa cosa e il valore aggiunto non era più poi così grande. Quindi penso che si sia imparato che il messaggio debba essere dato però debba esserci un po' una strategia anche comunicativa per cui invece che parlare sul singolo dato giornaliero parlo di trend, di come sta andando il fenomeno, di quelle che sono le analisi che stanno dietro alle decisioni, però senza dare rilievo al valore in un singolo punto, non so, dell'RT o del parametro di quel giorno dei contagi. Secondo me il dato deve essere letto in modo un pochino più aggregato e evitando di focalizzare sul singolo numero ma guardando un po' gli andamenti. E questo è un consiglio sicuramente molto utile. Lei tra le altre cose, dicevamo all'inizio, si è occupata anche di strategie di vaccinazione. Naturalmente la vaccinazione contro il SARS-CoV-2 sarà un elemento molto importante da affrontare, sarà una procedura molto anche complicata da mettere in atto. Abbiamo già modelli sulle strategie di vaccinazione, come siamo messi da questo punto di vista? Sicuramente ci sono diversi gruppi che stanno lavorando allo sviluppo di modelli che includano le politiche di intervento, quindi politiche di vaccinazione in primis. Sono modelli che si adatteranno ai vari contesti, quindi sicuramente ci sono gruppi che stanno già lavorando su questo. La prospettiva per la vaccinazione è una prospettiva, come dice lei, piuttosto complessa, che richiederà a mio avviso una capacità di comunicazione da parte dei governi sulle scelte che verranno adottate, sui gruppi che verranno targetizzati, che sarà molto delicata. La percezione delle persone, dei cittadini su questa vaccinazione, come su molte altre, è sempre un po' così oscillatoria, per cui è sufficiente che ci siano degli eventi o dei casi singoli o sporadici che l'attitudine, la percezione dei cittadini cambia e quindi bisognerà stare attenti anche a quello che è il messaggio che viene mandato, a come verrà strutturata la comunicazione, quelle che sono le percezioni anche adesso, prima della disponibilità dei vaccini, su quelle che sono magari per i cittadini le categorie che dovrebbero essere targetizzate con i vaccini. Quindi, secondo me, tutta la macchina della disponibilità dei vaccini sarà una macchina complessa, è una macchina complessa già ora e ha diverse sfaccettature. C'è un aspetto molto interessante della comunicazione relativa alla vaccinazione, di cui lei, tra l'altro, si è occupata in un recente lavoro pubblicato in preprint sul database MedArchive, Building Comprehension to Enhance Vaccination's Intentions. Sostanzialmente affrontate il tema della propensione della popolazione a vaccinarsi e tra le altre cose riportate che includere informazione statistica a riguardo di come funziona un vaccino finisce per ridurre l'intenzione dei genitori a vaccinare se stessi e i figli. Sostanzialmente sembra che dare troppa informazione faccia generare una forma di ritrosia quasi da parte dei genitori in questo caso. È un problema squisitamente di come viene comunicato il risultato. Secondo lei, appunto, come andrebbe affrontata questa questione? È molto importante che la comunicazione venga compresa, prima di tutto. Quindi tutti i messaggi di comunicazione devono essere prima compresi per poi indurre il cittadino ad aderire ad una politica o piuttosto che a porsi in un certo modo rispetto al rischio della malattia o al rischio di infezione. Quindi in questo studio che noi abbiamo condotto sia in America che in Italia, in due campioni paralleli, abbiamo trovato che appunto inserendo nella descrizione dei dettagli tecnici, statistici, numerici, riduceva di parecchio la comprensione da parte dei partecipanti del messaggio che doveva essere passato e quindi di conseguenza poi riduceva anche la loro propensione a vaccinarsi, in quel caso a vaccinare i propri figli. Quindi il risultato dello studio ha messo in luce che messaggi e comunicazione più chiari, meno complessi, più, diciamo, descrittivi e meno numerici hanno un impatto perché aumentano la comprensione da parte dei cittadini e quindi hanno un impatto positivo sull'adesione. Un'ultima domanda professoressa, sempre in qualche modo legata alle vaccinazioni, ma in realtà solo in parte, perché una delle sfide sarà proprio quella di riuscire a vaccinare paesi del terzo mondo come quelli africani. Allora vorrei fare una domanda proprio sull'Africa. Sembra che l'Africa sia stata colpita in maniera diversa dal coronavirus rispetto agli altri continenti. Abbiamo capito perché? Lei naturalmente si è occupata di malattie infettive in Africa e di modelli epidemiologici nel continente africano. Cosa abbiamo capito oggi sull'Africa in relazione al coronavirus? Effettivamente in Africa sembra che l'impatto del coronavirus sia stato sia decisamente inferiore rispetto a quello che abbiamo visto nel resto del mondo. Motivi legati a questo possono essere tanti e quelli diciamo che vengono discussi principalmente ad oggi sono il primo legato alla struttura demografica, quindi alla distribuzione d'età di questi paesi che sono popolazioni molto più giovani e quindi probabilmente noi abbiamo visto che il coronavirus, soprattutto nella fase iniziale, quando la popolazione è completamente suscettibile, attacca di più e in maniera più severa gli anziani e quindi il fatto di avere meno persone che raggiungano età elevate in un contesto africano può di fatto ridurre l'impatto che l'infezione ha in questi paesi. Poi ci sono altri fattori che vengono discussi, che sono studiati al momento ma di cui non si è ancora certi, che possono essere l'esposizione ad altre infezioni, che magari ha creato una memoria immunitaria che è particolare per cui in queste popolazioni gli individui sono più protetti rispetto all'infezione da coronavirus ed anche il fatto che è più difficile in un contesto come quello dove le infezioni respiratorie sono tantissime e spesso non sono diagnosticate, quindi avvediamo solo i sintomi, che molto del coronavirus, della diffusione del coronavirus in questo contesto rimanga non registrato e quindi ci sia di fatto il coronavirus magari in modalità più, se vogliamo, asintomatica appunto perché le fasce d'età sono più giovani, eccetera, e che non vengano registrati, non vengano fatti i test e quindi non si possa sapere esattamente quella che è la proporzione di casi respiratori dovuta a queste infezioni. Mi sembra di capire che avremo ancora molte sfide di fronte nei prossimi mesi e i modelli previsionali sicuramente ci aiuteranno a capirci qualcosa di più, se non altro. Io la ringrazio moltissimo, professoressa. Grazie a voi. E le auguro buon lavoro. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a tutti.